bella ragazzi e bentornati su minecraft dopo non so quanto tempo se ricordate bene avevo fatto una serie hardcore ma l'avevo interrotta perché mi si era fottuto il salvataggio quindi ho pensato iniziamone un'altra tanto codesti membri anche detti sti cazzi quindi oggi iniziamo una nuova serie hardcore che spero non si fotta di nuovo il salvataggio perché sennò potrei bestemmiare pesantemente il mondo lo chiamiamo padre pio landia ok la modalità era estrema no? era bastava così per mondo normale si vabbè si poffa estrema let's go allora oh cristo ho fatto un casino della mangorgia e non so ovviamente quanto dovrà questo video perché non ho visto ancora anzi vediamo a che ora ho iniziato sono le 21 e 28 sono nato davanti dentro un albero ok allora maiali maiali dentro le cose allora innanzitutto manco esploro il mondo perché tanto gesù cristo lo so che mi ha fatto nasce dentro a un mondo de merda senza manco una cazzo de risorsa e quindi abbiamo le prime cose le prime qua sfondiamo i primi alberi dalle palle blu per fare poi gli attrezzi e andremo a spaccare il culo ai nomadi ok fammo subito tipo una cristo table voilà qualcuno mi aveva detto di fare tipo una serie sulla technique ma lo ripeto io sulla technique non so giocarci perché non so giocarci non è difficile capire non so niente sulla technique quindi ci facciamo una spada tanto la spada del legno la userò tipo mezza volta cosa cazzo sto facendo mi serve il piccone ok riprendiamoci qua la cristo table andiamo ad uccidere i maiali voglio i maiali i maialoni dove stavano? eccoli qua mamma mia rega un gregge di maiali i maiali non sono nel gregge vieni qua mamma mia l'ho 2 shottato no questo l'ho 3 shottato questo si pensa che tipo scappa e si ripara sotto l'arberi ciao io sono dio e mori mi dispiace vieni qua dio dio dove sei? vieni qua guarda dio come scappa dio bravo dio che mi da ma quanta cazzo? 5 ok una mela e vieni qua anche tu Gesù e dai segui il buon esempio di papà muori ancora maiali vabbè abbiamo tipo l'altro legno perché almeno vengo a trovare un posto faigo da dove farmi la la kazupola più tipo più legno possibile almeno ah raga è pieno di maiali qua è pieno di piccoli gesuiti vieni qua ok e ho visto tipo una gro cioè un canyon non è vero fumo erba cazzo per dire queste strane eccolo là invece ho visto bene dai mori ma tashi tua ok allora io direi di andare a prendere oh cazzo mamma mia già subito le cave le grandi cave mamma mia allora prendiamoci subito qua il un miliardo di cose probabilmente allora mi finisco il piccozzo questa parte ve la velocizzo quindi a frappè bella son salito sul traghetto per andarmene in sarfregna ma era pieno di mignotte froci berlusconi e trans la vacanza inizia male salgo a bordo a culo stretto a saperlo rimane e voglio giù a lati spogliasco ma è tardi ormai è perciò su putanic partirò ma il volso sonso non voglio che rieccoci qua non ho finito il piccone anzi lo finisco adesso almeno perché odio ferro subito ferro mi piace questa zona mi piace e ovviamente voglio finir cioè sto prendendo tutta la pietra almeno uso il piccone del ligno che altrimenti non l'avrei mai usato quindi è l'unico modo per usarlo è esattamente questo qui ok perfetto quindi adesso noi no che cazzo faccio potrei già benissimo farmi un piccone in pietra sorratemi ho sbagliato prendiamo la crystal table qui intanto e mi sto a vedere Napoli in sottofondo quindi non so se si sente spero di no mamma mia qui cos'è le grandi cave subito il ferro primo episodio il ferro terzo episodio diamanti meglio del dell'altro dell'altra serie vabbè qua purtroppo però non vado oltre anzi andiamoci subito a trovare qualcosa per fare la casa assolutamente la giacca c'è il carbone lo andrei a prendere ma c'è stava ecco lo scheletro infatti che mo se me ciocca mi tipo mi stupra l'anno una cosa del genere Napoli che sta perdendo 1 a 0 non me ne frega un cazzo sono incastrato da qui non posso più uscire perfetto non è vero posso uscire benissimo allora il volume comunque ora nelle mie orecchie è un po' alto vabbè lo abbastrò no raga è pieno di caverne qua Gesù è stato buono questa volta guarda qua no però me devo trovare la casa raga non è che potremmo stare qua a scureggiare sopra i piazzi di pane quindi facciamoci una casetta anche provvisoria ecco tipo qua mi piace nel deserto bello cazzo zombie per me ci sta tipo uno spawn di zombie qua sotto perché c'è e se invece no però non c'è la giungla se no mi potevo costruire tipo su un albero vabbè e allora direi la casa al lago faccio una casa nel lago ecco vicino c'ho un cazzo c'ho vicino però potrei farla tipo qui mi gusta molto qui la mangusta eh mi gusta c'ho solo ah no ok oh eh 48 non mi basta ne do via l'altri però aspettate la famosa il 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 come si chiama l'ascia in pietra almeno ci metto de meno a disintegrare i pezzi di legno e vorrei farmi tipo la la casa su un albero però non mi va assolutamente di costruirla qua c'è il deserto là c'ho c'ho mille caverne quindi andremo ad esplorarle tipo adesso non è vero prima ne faccio la casa e poi le andrò ad esplorare e se invece facessi una cosa tipo figa che costru se io costruissi proprio dai quante cazzo ce ne stanno se io costruissi in mezzo all'acqua come avevo già fatto si potrebbe benissimo fare tipo lì al centro mamma mia i grandi progetti che progetti che sto a creare però mi serve tipo tanto legno più che altro non devo sbricare perchè è quasi noce bailamo nella noce per finita la vita oh cos'era quel lag allora ok quasi quasi però mi faccio una pala perchè levo mo faccio una provata cioè non so non so se ce l'avete presente le provate no no non va faccio le mo va creo un attimo mi faccio il mega ponte no mamma mia che ve sto a creare cioè proprio qui ingegneria del futuro cazzo allora tu mettite qua tu mettite qua tu mettite qua tu mettite qua allora vorrei farla allora no ancora un po' più nell'inside ok ho finito già qua vorrebbe andare bene allora va qua c'è sta la porta poi uno due tre e quattro e cinque famo famo e cinque quindi uno due tre quattro cinque perfetto poi qua famo sbada bam sbada bam sbada trinche sbada trunche nel frattanto non ho contato uno anzi uno due tre quattro più una cinque no è quattro uno due tre quattro cinque come canta calza faccio lunga cinque basta famo sette famo sette poi uno due tanto qua non serve contare perché tanto vorrei riuscire a vederla dato che ho ancora la facoltà di vedere e infatti ho sbagliato sei un pro sei veramente un pro complimenti Matteo sei un pro continua così che vincerai la tua battaglia contro le malattie mentali ok voilà quindi è uno due tre e famo quattro queste parti sicuramente vi annoieranno ma poi regate tranquilli che questa qua è solo un video per annunciarvi diciamo che la serie narcore anzi la seconda serie narcore ritorna perché comunque un po' mi mancava fare video di minecraft più che altro perché ormai sto facendo il suo video di code battlefield non lo posso usare perché come ho detto si blocca il disco e quindi un po' c'è un po' under posto con i video arriveranno anche quelli di fifa spero si probabilmente arriveranno e quindi niente ho deciso di fare di tornare a fare anche minecraft tu vieni qua sbadabem no non cliccate ok ecco vieni qua mannaggia me poi mi farò il secchio e sistemerò tutto quanto perché ovviamente io l'acqua smertata in casa non ce la voglio ok sbasbasbu sbisbe sbomf cioè ho fatto la casetta pure sopra i hai come si chiamano io ho rovinato tipo l'habitat naturale ma sti cazzi ok spero che mi basti il legno non basterà mai il legno vabbè tanto qua non è che ci dovrebbero venire i mob meno spero il legno non basterà mai però per me ne fa la colonna qua ok me ne servirà oddio devono pure cercare le pecore per farmi il lettone vabbè comunque ok finisco di mettere queste ultime cose e poi vi saluto non so quanto sia venuto lungo credo non troppo e vabbè comunque come ho detto era giusto un video per annunciarvi che comunque la serie hardcore tornerà mettete mi piace se volete se anzi se vi è piaciuto che io abbia maciullato dio per avere la carne comunque la serie è tornata tornerà sempre le case in mezzo all'acqua come sempre perché siamo dei pro devo andare a riprendere la crafting dopo lo farò uno scheletro ciao e niente spero che vi faccia piacere non ho la skin di batman che vabbè poi me ne cercherò un'altra e comunque mettete mi piace e commentate se siete contenti che torni l'arcore perché lì ci sono delle cose che andrò a prendere che torni l'arcore perché molti me lo avevate chiesto sono molto felice che mi abbiate chiesto diciamo di tornare a fare questa serie quindi la faccio solo per voi solo per noi solo per tutti totti tette comunque mettete mi piace e commentate la serie hardcore cercherò di caricarla una volta a settimana tornerà anche Metal Slug prima o poi tranquilli torneranno verranno i video di FIFA 13 quindi diciamo che in questo periodo ci sarà un po' più di varietà nel mio canale rispetto all'ultimo mese che comunque ho caricato molti video di coda anche grazie o per colpa dei double commentari che ho fatto comunque mettete mi piace e commentate ci sentiamo alla prossima bella